Ciao a un momento in questo nuovo video, qui ti parlo del concetto di Scala Blues. Allora Scala Blues è una scala pentafonica, una scala pentatonica, basata con molte scale proprio della tradizione, molte scale che si usano a livello proprio di folclore, appunto di tradizione, cinque note e il concetto di queste cinque note è l'unione di un'altra note, la tritono, che è la quarta aumentata, che dà quel colore, quel cromatismo particolare proprio, dà quel cromatismo particolare proprio, che rende unico, che rende proprio unico quello che è la scala blues, quel cromatismo, quella note in più particolare. Quindi il blues ha unito, fa tutto quello che è il ritmo, tutto quello che viene dall'Africa, dove gli africani sono, ed è vero, migliori in questo, nel ritmo e l'ha migliorato apportando quello che viene dal mondo, diciamo, occidentale, l'uso appunto del tritono e degli accordi di un certo tipo, l'uso della settima, non avevano conoscenze, diciamo, molte conoscenze gli africani, però sono riusciti a unire le due scuole di pensiero, questi sono riusciti a fare, creando proprio uno stile unico, uno stile veramente, veramente unico. Questo è quello che sono, quello che sono riusciti, riusciti veramente a creare. Allora, tolto questo punto, che è importante, l'altro punto veramente importante, allora le note sono, do la terza bemolle, perché comunque è una scala che viene da una scala minore, la scala minore appunto, gli do, la scala eolica, quella di là, vabbè, comunque è do, la terza bemolle, mi bemolle o re diesis, quarta è la, la quinta è sol, la quinta è sol, quindi uno, un è do, due è la, è mi bemolle, tre è fa, quattro è sol e la diesis, è il quinto è do, che si torna indietro, c'è la quarta aumentata che è la, la, la quarta aumentata è do, re, mi, fa diesis, aggiungi il fa diesis e avrai una nota cromata, quindi do, mi bemolle, fa, fa diesis, sol, la diesis e do, questa è la scala plus. Ciao a presto il video, buonio, 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 buonio.